Noi mangiamo di tutto, ieri il ristorante tutto con tu 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 tu, con le ore di tu tu, 10 ingredienti, oggi invece si fermano qui alla roulotte e ci facciano un bel panino, ora devo scegliere cosa le mangio, guardate qua, comunque non so che fa, io voglio fare di tutto qua, l'unza col pistacchio, questo specchio, vedi che amore come è qua, la salsiccia, guarda che spettacolo, guarda che bello questi qua, con questi qua i pistacchi, guarda col pistacchio, tipo un bombetto col pistacchio, poi il stifacottino e la carne di cavallo pure c'è, carne di cavallo, eccola qua, bella, bella, oh, se vieni a Siracusa qua da Peppe ci dovete passare, mannaggia, guardate qua che spettacolo, guardate qua, guardate qua, è tutti parenti a Roma, e ora c'è pure il qua a Siracusa, dai, guarda qua, che spettacolo, questo è il piatto, niente di panino, così pochi carboidrati, mangio solo proteina.